Nonostante ciò, con meno 50 punti vince Sant'Angelo in vado! Raggiungendoci, raggiungendoci prego, qui al centro della piazza perché andiamo dalla signora Maddalena perché guardate che meraviglia questa tavola, una volta che la vedo mi viene l'acquolina in bocca, io però volevo dire che cosa hanno vinto i nostri concorrenti, avete vinto un meraviglioso soggiorno a Dischia dove potete fare delle terme meravigliose, io a questo punto però volevo ringraziare Beridiana per essere stata con voi. Grazie, grazie a tutta la Puglia che ci avete accorto bene come sempre!